Ballando con le stelle, chi è Andrea Antonello, primo ballerino per una notte Annunciato il ballerino per una notte che si esibirà nella prima puntata di Ballando con le stelle Mancano due settimane esatte alla partenza della nuova edizione di Ballando con le stelle, che Millie Carlucci condurrà dal 21 ottobre, tutti i sabati sera su Rai 1 dalle 20.40 circa Estamani TV Blog, sempre molto informato sui dietro le quinte di tutti i programmi tv, ha svelato il nome dell'ospite che calcherà il palco dell'auditorium della Rai di Roma con il ruolo di ballerino per una notte, trattasi di Andrea Antonello Probabilmente il nome a molti non dice nulla. Dato che non si tratta di un VIP ma di una persona comune, Andrea è infatti un ragazzo autistico, la cui storia è già stata raccontata in televisione Nella foto in alto lo vediamo assieme a suo padre Franco in occasione di un'ospitata avvenuta domenica in, intervistati da Mara Venier Andrea Antonello e suo padre Franco hanno fatto il giro del mondo in motocicletta Come racconta Bloggo, Andrea Antonello non è un ragazzo qualunque. Condivide con suo papà Franco la passione per la motocicletta, a bordo della quale i due qualche anno fa hanno fatto il giro del mondo Con la moto hanno percorso 6200 km Franco e Andrea, attraversando l'India da Nuova Delhi a Mumbai fino a raggiungere Calcutta, ma hanno attraversato anche gli USA arrivando in Brasile Non sono mancati, poi, viaggi fra l'Italia, il Marocco, la Grecia e Capo Nord Franco Antonello ha dediso di dedicare la sua vita ai bambini e ai ragazzi autistici, fondando un'impresa sociale chiamata, I Bambini delle Fate Franco ha creato anche, la Banca del Tempo Social, alla quale si dedicano volontari che si occupano di ragazzi autistici Millie Carlucci ha confermato i tribuni del popolo, saranno gli stessi dello scorso anno Ballerino per una notte a parte, sempre da TV Blog scopriamo che Millie Carlucci in questi giorni ha reso nota anche la formazione dei tribuni del popolo, che saranno poi gli stessi dello scorso anno, ossia Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira Escluso, quindi, Roberto Poletti, che si era ipotizzato potesse aggiungersi come quarto tribuno Cast di concorrenti completato, giuria confermata, tribuni del popolo resi noti, ballerino per una notte della prima puntata arruolato E' quindi tutto pronto per l'inizio di ballando con le stelle 18, non a caso nei giorni scorsi sono stati svelati anche gli abbinamenti maestri concorrenti